50 anni d'amore, 50 anni vissuti sempre accanto nonostante le avversità che fanno parte della vita. 50 anni, una vita, un traguardo eccezionale raggiunto dal signor Luigi Guagenti e dalla signora Borina di Gloria. La coppia di Nisseni ha celebrato le nozze d'oro venerdì scorso nella chiesa di Santo Spirito, con loro, oltre ai parenti e agli amici, i due figli, Salvatore e Michele, a loro volta sposati con Cinzia e Graziella, e i nipoti Luigi, Francesco, Esther e Marco. Un traguardo, quello raggiunto dai coniugi guagenti, oggigiorno sempre più difficile da realizzare. Vuoi perché ci si sposa più tardi e soprattutto forse perché oggi non si ha più la tolleranza, la pazienza di accettare le stagioni felici e quelle un po' meno. Ed è per questo motivo che le nozze d'oro dei nostri concittadini sono così preziose, perché hanno il sapore della rarità. Agli sposi giungano gli auguri più sinceri della nostra redazione.